No, no... Vai, balla, balla, tu commenta... Gatti... A l'è? A l'è? 21, 21, 21, stiamo lavorando. Ehi, fai sui posti, se non bullo a feria. Guarda, Esoni! Esoni, saluta la telecamera! e l'accendone allora che stavo facendo? stiamo sistemando le porti per ingresso stiamo lavorando per voi per voi bambini lo puoi e tu per voi? dove tu dai? sei il animatore? stiamo lavorando per voi stavo facendo le porti per ingresso e poi per giocare pure noi stai facendo le porti per ingresso e poi per giocare pure noi stai a pagare ehi addominaliiiiiiii ciao ragazzi come sei stracca? come sei stracca? come sei stracca? No teniamo...